Si prende la rivincita la New Basket Agropoli, che ieri sera ha battuto il Basket Cercola per 92 a 57, ritrovando il primo posto in classifica complice la gara persa dalla Mezzia contro Angri, a pari punti anche Salerno. Una gara comandata sin dall'inizio dai cilentani che hanno imposto il loro gioco, ai partenopei che nulla hanno potuto contro la furia dei locali nonostante gli sforzi profusi. Tutta altra gara rispetto all'andata quando i ragazzi di Coach Lepre persero a Cercola. Con la sfida di ieri si è chiusa la regular season, adesso tocca attendere la preparazione del calendario della fase a orologio che prenderà il via domenica prossima. Coach Lepre ha commentato così, ci siamo presi la rivincita con gli interessi questa sera contro Cercola, siamo stati sempre in controllo di gara e sempre avanti a doppia cifra, terminando con un distacco di 35 punti. Sono riuscito a far roteare tutta la squadra, davvero una bella prestazione dei miei nella quale abbiamo confermato il buon momento e una buona palla a canestro. Sulla classifica e sul prosieguo siamo tre squadre al primo posto a 14 punti, noi, Salerno e la Mezzia. Adesso bisognerà fare i calcoli dalla classifica avulsa per comporre le gare nella fase a orologio. Sono previste per noi tre gare interne e due esterne secche, quindi non ci sarà andata e ritorno. Le prime due classificate di entrambi i gironi andranno a giocarsi i playoff.